L'ultimo dato registrato dalle centraline dell'ARPAC di Avellino evidenzia 16 sforamenti sui 35 consentiti rispetto al dispositivo del quinto circolo situato al prolungamento di via degli Mbimbo e ben 30 per la sonda situata nell'ex Dante Alighieri di via Piave. Dunque polveri sottili di nuovo schizzate in città dopo un lungo periodo di stop. L'aumento dell'inquinamento coincide con lo spostamento dello stanzionamento dei pulma da Piazza Kennedy allo stadio Partenio Lombardi con la variante mattutina nei giorni del mercato martedì e sabato che vede i mezzi fermi lungo via De Gaspere nel piazzale di via Covelli. Mentre tutta la settimana funzionano normalmente anche i mini termina di via Fariello adiacente alla costruenda stazione dell'AIR e Campetto Santarita solo per pochi mezzi diretti verso il raccordo allo stradale Avellino-Salerno. Per il sindaco Gianluca Festa questo aumento delle PM10 però non è da collegare al trasferimento degli autobus da lui voluto per ora in via temporanea per l'allestimento del villaggio di Natale per i più piccoli e la pista di pattinaggio proprio a Piazza Kennedy ma dal 7 gennaio in maniera stabile e senza deroghe attraverso il passaggio degli ambulanti dal parcheggio del campo sportivo a Campo Genova. Per Festa la strada imboccata sulla viabilità si rivelerà vincente sul lungo periodo sia per il traffico cittadino che sulla qualità dell'aria. Così ha risposto a chi sollevava qualche perplessità. Speriamo abbia ragione.